Buonasera amici di Radio Frane Note, una nuova puntata di Lucia San Martino e volevo così ricordarvi che queste puntate poi potete riascoltarle sul canale YouTube di Radio Frane Note non si perde nulla, non perdiamo, non possiamo disperdere tutta la grazia che da questi microfoni ogni martedì sera ci viene donata quindi potete andare a riascoltare tutte, 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 dalla prima, dalla prima puntata e adesso è il momento di andare ad ascoltare le dediche di oggi, Radio Frane Note, la radio che è il colore del cielo Questa volta sono Rita, questa volta con pochissima voce ma con un cuore e un'anima grandiosa a tutti quanti dedico la canzone di Chris Chicchi, abbi cura di me, un abbraccio a tutti quanti Caterine, spettatrici di una meraviglia Ciao a tutti, ai nostri malati, a tutti, a tutto il reparto a chi questa cura la deve fare speriamo con positività perché loro sono meravigliosi è impossibile all'incontrario quindi sicuramente sarà una vittoria perché sono tutti dei guerrieri proprio bravissime e quindi praticamente ce la andiamo ad ascoltare andiamo ad ascoltarla, sì 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 adesso chiudo dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare Ciao amici, siamo insieme a Giorgio allora Giorgio, io sono un ragazzo, un ragazzo di 27 anni qui ci sono delle piccole gag ma spieghiamolo perché lui stava riposando però io dico allora non busso poi è passato un infermio e mi ha detto no no ma sveglialo pure se no dormo tutto il giorno e allora insomma la gag è andata così allora io ho la tua età immaginiamoci ho un lavoro, mi godo la vita eccetera poi arriva una salita improvvisa che cosa può insegnarci una salita così? eh, sicuramente a non mollare, a non buttarsi giù quello sempre, altrimenti la salita non si fa mai discesa quello sicuramente sono cose che possono capitare uno deve cercare di affrontarle nel migliore dei modi senza doversi buttare giù sicuramente quello provare col sorriso stampato in faccia quello sempre è difficile a volte, la maggior parte delle volte non ci si riesce però quella è la cosa principale, la più importante a me che sono uno sconosciuto appena ho aperto la porta tu appena ti sei svegliato mi hai subito sorriso quindi vuol dire che ce l'hai però quel sorriso pronto eh sì, diciamo che ci si prova ci sono giorni e giorni giorni in cui non ce l'hai proprio giorni in cui magari ti esce fuori così ci provi grazie allora per avermelo regalato grazie a voi ciao sono Francesca e vorrei dedicare a Fausto il mio ragazzo la canzone di Niccolò Fabbi una mano sugli occhi sei fortunato saluto a tutti a tutti a tutti latinoamericani che sono qui in Genova un cordial saluto le ho parlato a un paciente di trasplante di medulla específicamente con la enfermedad del leucemia mieloide cronica e le dedico una canzone a mi persona ya che il 21 di questo mes cumplo anni e quisiera che che lo celebri anticipato di questa maniera con una canzone di Senior Connor a ver se la escuchano nothing compass to you bellissima grazie Leo grazie a voi e spero che la disfrutino bella che così fiera va cogli la prima mela abbiamo una mela abbiamo una mela ogni volta troviamo uno spunto siamo insieme a Anna Maria che è bellissima perché ve lo posso dire che è una donna meravigliosa e a lei volevo fare questa domanda che cos'è la vera bellezza? quella che abbiamo dentro sicuramente non l'esterno grazie prego allora la dedichiamo a tutti cogli la prima mela ciao sono Gigi di Sanremo una canzone dedicata a mia moglie Emanuela Fiorella Manoia quello che le donne non dicono amici del bar non si è dimenticato di voi siamo insieme a Giuseppe che gli dedica gloria di Umberto Tozzi al bar Lolli ce la cantiamo tutta insieme tanto amici diretta su Radio Frenotte insieme non so se l'avete riconosciuto ma lui è io sono Vanni Tempesta nome e cognome vabbè Vanni Vanni questa è la rifatta tu lo so eh se con noi sincero amico tu sarai questo mondo migliore sembrerà usisci a noi le tue mani per formare vabbè con tutta l'umanità e vedrai nel cielo saltare un lì nel mondo nel mondo ci sarà quella pace che cerca l'umanità vorrei cantare vorrei cantare insieme a voi chiamate il Signore un canto di speranza che che rallegri i nostri cuori pace amico al mondo amare al mondo e che scopriamo insieme a te delle parole le vado a cercare noi con amore e se il mondo oh Signore non conosce più l'amore daremo noi a sconfiggere l'olore vorrei cantare insieme a te chiamate insieme il Signore e questa poi ripeto grazie se vuoi andare su quelle anni 60 grazie le conosce tutti ma al limite c'è Stanley perché aiutano le parole certo chi canta il mio cuore amore 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 è quello che so dire ma tu mi capirai a questa persona splendida la prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane sei tu tra gli alberi una stella la notte si è schiarita e il cuore innamorato sempre più ho visto stamattina mentre andavo a lavorare il lattaio il postino e la guardia comunale c'era tanta gente felice intorno a me ieri non ci credevo non so proprio perché viva la gente simpatica più che mai viva la gente le parole se più gente guardasse alla gente con amore ci fosse meno gente difficile e più gente di cuore poi vabbè un'altra di quelle poi c'era qua pure le parole aspetta allora chiese dimmi papà ecco bravo Dio che colore questa era di questo gruppo americano del 70 di che colore la pelle di Dio di che colore capito questo come vedi poi vengono fuori tutte quante le le canzioni lento va il fiume attraverso la prateria portando via i sogni del mio cuore l'acqua cammina dove passa non fa ritorno come quel giorno che per me non ritorna mai più il mio amor su quel fiume se ne andò il mio amor ai miei baci non tornò mai più va il fiume senza ritorno e nel corso del suo cammino tutto trascina ciò che prende non rende mai più lento va giunge fino al mar per non ritornare mai più grazie grazie ora non voglio darmi ragione da solo però siete d'accordo con me che tutte le volte vi prometto cielo e luce san martino vi dà cielo dai dai su questa questa lasciatemela questa soddisfazione di dire oh non sbagliamo un colpo ma è vero perché dove c'è vita vera dove c'è amore vero dove ci sono gli affetti veri non si sbaglia mai e allora adesso passo subito la linea ai miei fratellini Gianni e Marilena per una nuova puntata di Calibro 90 Radio Fra Le Note